All I want you to see is laughing in a glory, a glory, a glory. Drusilla Furr conquista Pescara il teatro d'annunzio con il suo spettacolo Eleganzissima, andato in scena nell'ambito della sezione teatrale del P-Fest, organizzato dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Eleganzissima, scritto e interpretato dalla stessa Drusilla, alter ego di Gianluca Gori, è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Ferre. Vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, è costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei, familiare per i suoi racconti così confidenziale e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e sono suoi. Il pubblico, come visto dalle immagini, si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. Eleganzissima, va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedita, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata da Loris Di Leo al Planoforte e Nico Gori al sax clarinetto. Grazie mille, ciao.